E' finalmente iniziata la Gaming Week. Mancava già da un pochettino, già da circa un mesetto, un pochettino di offerte, un pochettino di sconticini per quanto riguarda Amazon. Sono riuscito a selezionarvi per quelle che erano le offerte che secondo me sembravano più adeguate o comunque offerte di prodotti che vale la pena prendere con quel tipo di prezzo. Quindi partiamo subito! Partiamo dai monitor. Come sempre veramente tanti ma tanti monitor in sconto in questo Gaming Week. Partiamo subito con questo LG da 27 pollici in QHD pannello IPS, ottimo pannello che io stra adoro, alla bellezza di 165 Hz. Dal prezzo di 277 euro scende a 230 euro. Siamo già a circa quasi 50 euro di sconto, quindi veramente sono una bomba. Di monitor LG di sconto ce ne sono altri, però ho selezionato questo qui perché è quello con più differenza di prezzo alla fine per quanto riguarda lo sconto, tant'è che ne ha il 17%. L'altro monitor che ho selezionato è come sempre, sempre, è sempre presente il nostro carissimo Samsung D6G3. Veramente è presente ovunque. Stiamo parlando infatti di un 24 pollici, stavolta in full HD con pannello VA. Non è il mio pannello preferito. Tutto sommato questo monitor presenta un'ottima gamma di colori, oltre a diverse funzionalità. Qui stiamo parlando di un prezzo da 159 euro a 139 euro, 20 euro di sconto. Non sono tantissimi, ma neanche pochi. E infine per gli ultimi due monitor vi ho selezionato ben due fratelli. I fratelli sono i fratelli MSI. Abbiamo un G2712, un monitor da 27 pollici, full HD, quindi comunque non 2K, sempre pannello IPS che io stra adoro alla follia. 170 Hz, questo anche AMD FreeSync. Personalmente ho già avuto un monitor a casa MSI. Devo dire che hanno un'ottima resa. Per quanto riguarda il prezzo, questo monitor qui potrebbe essere il migliore da acquistare in questa Gaming Week attualmente. Stiamo parlando da 210 euro di monitor a ben 150 euro per un monitor 27 pollici, full HD, per giunta pannello IPS. E poi ovviamente, come detto poco fa, troviamo il suo modello più piccolo, il fratello Minori, da 24 pollici, full HD, 180 Hz. Passiamo da un prezzo di 167 euro a ben 129 euro. Stiamo parlando di 30 euro di sconto, 23%. Se avevate intenzione di prendere questo monitor, approfittatene adesso. Passiamo a quelli che sono i processori. Ne ho solizionati solamente due, per giunta due processori Intel. AMD, ho visto, non ha fatto granché offerte per quanto riguarda questa Gaming Week. Ovviamente sto parlando attualmente. Ricordiamo che la Gaming Week durerà fino al 5 maggio, quindi può essere che comunque tireranno fuori altre offerte. Per quanto riguarda il primo processore è un i5-12400F. Stiamo parlando di un processore di due generazioni fa. Ovviamente ricordiamo che la 14esima appena uscita è andata male, no? Bene, più o meno. Ma per quanto riguarda il dodicesima, questi processori qua, soprattutto quando costa da 150 euro a 128 euro, comunque sono ben altri 20 euro in meno, specialmente perché questo è il prezzo più basso che abbia mai avuto. Sotto i 125 euro non è mai scelto, siamo a 128. Se proprio volete acquistarlo, acquistatelo adesso. L'altro processore che ho selezionato è un i7-12700KF. Questo si tratta ovviamente del fratello maggiore, chiamiamola così, di questa generazione qui, confronto all'i5-12400F. E la versione KF, quindi la versione overclockata ma senza la scheda grafica integrata, quindi vi servirà necessariamente una scheda video per poter utilizzare questo processore. Passiamo da 290 euro a 240 euro. Stesso discorso per l'i5-12400F. Questo processore qua non è mai sceso sotto i 225 euro. Vedete voi. Passiamo alle RAM. Per le RAM ho selezionato ben due tipologie, le DDR4 e le DDR5. Andiamo subito a vedere quelle che sono le DDR5. Abbiamo delle Corsair Vengeance RGB da 32 giga, quindi 16 giga l'una, da 6400MHz, quindi delle RAM veramente ottime. Passiamo da 157 euro a 134 euro. Anche qui una ventina d'euro. Che dire, se avete una build da poco aggiornata DDR5 e volete portarla a 32 giga di RAM per essere proprio nel lusso delle prestazioni, allora avete tutta la mia approvazione per comprarle. E poi abbiamo le Corsair Vengeance RGB Pro, quindi leggermente un modello diverso, 32 giga stavolta DDR4 dal 3600MHz. Passiamo da 103 euro a 84 euro. Anche qui siamo su una ventina di euro. Stesso un edesimo discorso per le DDR5. Se state facendo una build, volete farvi l'ultima build DDR4 per non spendere molto, dato che comunque le DDR5 sono scese di prezzo, ma comunque restano a un prezzo elevato, tutto sommato, confronto alle DDR4 che ormai sono stabili da un po', potete farci un pensierino. Per quanto riguarda gli SSD, gli NVMe, comunque sia le memorie, ne ho selezionata solamente una. Ho controllato le altre ma non mi facevano impazzire sinceramente come offerte. Ho selezionato questo Crucial P3 da ben 4TB. Stiamo parlando comunque di un PCIe di terza gen, quindi comunque non è la quarta, anzi adesso sono usciti in realtà anche quelli di quinta, ma costano veramente tantissimo. Non è neanche di quarta. Sicuramente se avete ancora, come purtroppo io che le uso come memorie di archiviazione banalmente, questi 4TB di NVMe sono sicuro che potrebbero essere interessanti, anche perché passano da 307 euro a 230 euro. Non è male, uno stoccaggio in più per quanto riguarda gli alimentatori ne ho selezionati due. Per giunta sono entrambi Corsair e infatti c'è il fratello minore anche qui e il fratello maggiore. Il fratello maggiore è un Corsair RM850X. Questo ovviamente è certificazione gold. 850 Watt, quindi che dire, reggete tranquillamente una 4070 Ti senza problemi. Questo alimentatore qui è modulare, pura semplificazione per quanto riguarda il cablaggio. Potete inserire solamente i cavi che richiedono le vostre periferiche, quindi non avere cavi in eccesso che tenete lì purtroppo a crearvi, a mangiarvi spazio. Passiamo da 146 euro a 134 euro. Il prezzo più basso al quale è arrivato sono 120 euro circa, quindi può scendere ancora di una decina d'euro. Tuttavia è un alimentatore che non invecchia. Dopodiché abbiamo il suo fratello minore, ovvero il Corsair RM750X e anche questo alimentatore è certificato gold, quindi veramente ottimo. Scende da 115 euro a 100 euro. Siamo già per un alimentatore di ottimo marchio sotto i 100 euro. Il prezzo più basso raggiunto è sui 95 euro, quindi in realtà siamo molto più vicini qua al suo prezzo minimo che all'850. Per quanto riguarda i mouse ne ho selezionato uno solo e ho selezionato un Logitech G402. In particolare in questa gaming week Logitech ha fatto diverse scontistiche. Ovviamente però cerco di selezionarvi solamente dei prodotti che valga comunque realmente la pena comprare. Sappiamo che Logitech tende a fare dei prodotti anche abbastanza costosi, che non sempre valgono il costo delle prestazioni che portano. Soprattutto stiamo passando da 70 euro di mouse a 35 euro, siamo al 50% di sconto. A chiunque serva un mouse e non ha voglia comunque di prendersi il primo mouse di bassa fascia sui 20 euro, ma vuole spenderci quelle quindicina di euro in più, vi portate a casa vi assicuro un ottimo mouse. Nel canale ho recensito il G502 Hero, è veramente un ottimo mouse, quindi secondo me anche il G402 non deluderà. Per quanto riguarda le tastiere ne ho selezionata una sola e sempre una Logitech, abbiamo la Logitech G213, medesimo discorso in realtà per il mouse, passiamo da 60 euro di tastiera a 40 euro. Stesso discorso, se non avete intenzione di spendere troppi soldi per una tastiera professionale, ma non volete comunque avere una tastiera da 20 euro, bruttarelle diciamolo un po', Questa tastiera qua, 40 euro, ve la portate a casa e vi devo dire che è al suo fascino. A me personalmente piace, soprattutto per il prezzo, perché 40 euro sono invitanti, e io ho ancora la tastiera scrausa che ce l'ha 5 anni. Infatti un pensiero potrei farcelo anch'io. Per quanto riguarda i microfoni, ne ho selezionato uno solo, in realtà sono due, ma l'altro lo vedremo in una sezione a parte. Ho selezionato il Razer Siren Mini, la Mini, quello più piccolo. Questo microfono passa da 47 euro a 34 euro, il 26% di sconto. Io in precedenza, prima dell'HyperX Quadcast, che è il microfono che sto utilizzando tuttora, di cui ho fatto anche di questo qui, di video sul canale, avevo un microfono da in realtà 30 euro. Giù di lì avevo acquistato il microfono a 30 euro, marca sconosciuta, bassissima fascia. Razer non è che sia fenomenale come Elgato, come HyperX, come il Blue Yeti, o come banalmente lo Shure, ma comunque sia il Razer Siren Mini, è un ottimo microfono per iniziare. Per arrivare verso la fine del video, Elgato ci mette a disposizione ben 4 prodotti in offerta di grandissima fattura. Il primissimo è l'Elgato Key Light. Stiamo parlando della luce da streaming, banalmente video per YouTube, la migliore penso in circolazione, tant'è che il prezzo comunque dice il suo. Passiamo da 174 euro a 150 euro. Anche qui è una ventina di euro in meno rispetto al solito. Per quanto riguarda questa luce di Elgato, non l'ho mai vista scendere sotto i 140 euro. Quindi comunque siamo lì. Possiamo ancora risparmiarci una decina di euro, ma secondo me già questi 20 euro qua sono buoni. Altro prodotto di Elgato che viene messo in ottima offerta, abbiamo l'Elgato Wave 3, ovvero un microfono a condensatore. Passiamo da 165 euro a 120 euro. Non l'ho mai provato effettivamente, mi incuriosisce un pochettino. Il prezzo è tanta roba. Quindi tornando al discorso dei microfoni, abbiamo il Siren Mini e l'Elgato Wave 3. Se avete bisogno di un microfono tanto per, il Siren Mini va benissimo. Se avete bisogno di un buon microfono, anche in linea definitiva, perché comunque lo Shure vi ricorda essere un microfono dinamico, quindi avete costantemente il bisogno di tenerlo attaccato alla bocca. Invece come nel mio caso, che è un HyperX Quadcast che ha condensatore, potete tranquillamente stare lontani dal microfono senza problemi. Ovviamente il microfono dov'è che lo appoggiate? Lo appoggiate su una staffa. Ed Elgato ci mette a disposizione la sua Elgato Wave Mic Arm. In questo caso, white. Ebbene sì, ho messo la white perché la nera non è scesa particolarmente. Infatti il suo prezzo è 99 euro. Credo infatti che non sia neanche scesa. Mentre questa qui scende di ben 20 euro. Infatti ha il 20% di sconto. Questa qui è in assoluto l'asta per microfoni migliore che ci sia. A breve questo braccio finirà in saccoccia. Ve lo assicuro perché me lo prenderò, probabilmente. Perché per andare a spendere 20-30 euro per un braccio comunque di bassa fascia, questo qui vi permette di muoverlo in qualsiasi maniera. Oltre al fatto che è veramente comodo e facile da montare. E infine, sempre per gli appassionati di streaming, abbiamo lo Stream Deck MK2. Anche qui la versione white. L'Elgato Stream Deck può essere utilizzata per chi fa streaming, ma non solo. Banalmente può essere utilizzato anche durante l'editing. Oltre al fatto che si possono controllare varie cose anche esterne al PC. Sto parlando per esempio delle luci di Elgato che possono essere accese tranquillamente configurandole allo Stream Deck. Il nostro MK2 scende da 160 euro a 139 euro. Anche qui una ventina di euro. Tutto sommato, se volete fare un acquisto unico, direi che un 100-200 euro le tirate fuori di risparmio. E qui in realtà c'è poco da aggiungere. Se avete intenzione di iniziare a streammare o comunque streammate e non ce l'avete, qual è il momento se non adesso per prenderlo? Questi qui bene o male erano i prodotti che sono riuscito a trovare in offerte decenti o che comunque secondo me vale la pena acquistare adesso. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto e come sempre se vi è piaciuto lasciate un like che non fa male e noi ovviamente ci vediamo a un prossimo video.